Avanti c'è posto per tutti, ti adoriamo Ossia Divina, ti adoriamo Gesù, presente in questo sacramento dell'Eucaristia, ti adoriamo Gesù, Signore Gesù, eccoci qui tutti davanti a te, a te l'allora e la benedizione dei tuoi figli, Signore Gesù che ti sei offerta per tutti noi peccatori, Signore Gesù che hai pagato per tutti, hai pagato per gli altri, hai pagato per me, noi ti ringraziamo e ti benediciamo, questa mattina, Agnelli immolato, noi ti ringraziamo, Gesù io ti ho ringraziato nella messa perché hai pagato per me e ti sei immolato, ti ho ringraziato per i miei fratelli presenti, hai pagato per tutti loro il prezzo del riscatto, dando la tua vita, ho pregato per tutti gli uomini, hai pagato con la tua vita di valore infinito per i peccati, hai sparsa ancora una volta il tuo sangue questa mattina in remissione di peccati, tu muori ogni giorno sui nostri altari perché tutti noi abbiamo la vita, ad un patto tu ci perdoni che noi ci perdoniamo a vicenda, Signore, ti chiediamo perdono perché abbiamo peccato, ti chiediamo perdono perché tanto sangue è stato sparso nel mondo e continua ad essere sparso, ma abbiamo te che ti immoli per i nostri peccati. Signore Gesù, ad un patto i nostri peccati sono distrutti, se noi distruggiamo il peccato del fratello, con il nostro amore, se noi ci perdoniamo anche tu ci perdoni, ma se noi non ci perdoniamo i nostri peccati rimangono e il tuo sangue non scorre per noi, non è sparsa per noi e moriamo nei nostri peccati. Signore, tu lo dici questo continuamente, lo dici in Giovanni, lo dici continuamente a noi ed ecco allora questa mattina noi piangiamo i nostri peccati, noi ci perdoniamo a vicenda tutti i nostri peccati e li poniamo davanti a te perché si viene distrutti. Sei qui presente in mezzo a noi Goel cioè colui che si offre il riscatto per la tua vita offerta noi viviamo. Gesù, quale immensa gratitudine dovrebbe essere la nostra perché noi condannati a morte siamo stati riscattati e liberati dal carcere siamo stati liberati per l'offerta che tu hai fatto dalla tua vita per noi. Gesù, ti siamo tutti grati e questa mattina vogliamo ringraziarti dal profondo del cuore. Oh Gesù, ti offriamo la nostra lode il nostro ringraziamento e ti promettiamo di essere più buoni ti promettiamo di volersi più bene tra di noi di perdonarsi a vicenda perché questa è la condizione del riscatto chi non ami il suo fratello rimane nella morte. Da questo sappiamo di essere stati trasportati dalla morte alla vita si amiamo il nostro fratello che hai posto questa condizione al riscatto. Signore, noi ci amiamo ci perdoniamo perché la tua vita scorre dentro di noi. signore, in questo momento noi perdoniamo il fratello e la sorella che ci ha fatto del male in questo momento perdoniamo tutti quelli che ci hanno affeso in questo momento piangiamo tutti insieme i nostri peccati e gridiamo a te il nostro grazie perché tu ci hai riscattati con il suo santo. Ecco Gesù le nostre cose sante la nostra bellezza la nostra gloria sono state devastate li hanno profanati i pagani oh signore quanto peccato grava su noi ma tu tu sei offerto per il nostro peccato e adesso tu ci esolti a guardare avanti a non guardare il passato perché tu sei offerto per noi hai pagato per tutti noi hai pagato in abbastanza signore Gesù il tuo sangue è sufficiente per tutti i peccati del mondo il tuo sangue signore è di valore infinito e tutti i peccati degli uomini sono distrutti dal tuo sangue prezioso il mio sangue figli miei ha un valore infinito tutti i vostri peccati possono essere distrutti e negati nel mio sangue e li offro il mio sangue per voi ma adesso camminate camminate coraggiosi avanti camminate lottate perché questo io voglio dirvi questa mattina lottate contro i vostri nemici lottate per rifarvi una vita una vita nuova per generare il mio regno figli mostrate zelo per la legge date la vostra vita per l'alleanza dei vostri padri ricordate le geste compiute dei nostri padri ai loro tempi e ne trarrete gloria grande nel nome eterno abramo non fu trovato forse fedele nella tentazione e non gli fu accreditata giustizia giuseppe nell'ora dell'oppressione osservò il progetto e divenne signore dell'egitto guardate i vostri padri che hanno osservato le mie regge ed io le ho fatti grandi e adesso osservate le mie regge camminate nelle mie strade camminate per le mie vite non abbiate paura non abbiate paura di nessuno perché io vi esalterò camminate nelle mie strade combattete per il mio regno figli siate valorosi e forti nell'osservanza dei miei comandamenti del comandamento dell'amore perché in questo sarete glorificati oh signore abbiamo parafrasato l'ultimo discorso di matatia ai suoi figli signore tu vuoi parlare a noi il vostro passato ormai è distrutto nella mia infinita misericordia non guardate indietro perché chi guardi indietro mettendo mano all'aratro non è degno del regno dei cieli guardate avanti e camminate per la mia strada la mia strada è larga davanti ai vostri occhi io vi do tanto da fare camminate affermate il mio regno siate santi come io sono santo distruggete gli idoli davanti a voi distruggete tutto ciò che offende la mia gloria siate forti e coraggiosi i miei camminate con me verso il mio regno dove il padre vi aspetta signore Gesù tu ci parli questa mattina adesso vogliamo guardare avanti ti offriamo intanto tutte le nostre miserie tutti i nostri peccati ti offriamo tutte le nostre malattie signore Gesù quanti malati sono qui in mezzo a noi quanti oppressi dal maligno sono in mezzo a noi noi ti li offriamo perché nel tuo sangue prezioso tutto sia distrutto il male che il nemico nostro ha operato e noi cammineremo con te signore ti offriamo il male perché il male sia tutto distrutto dal tuo sangue e vogliamo camminare nel bene signore Gesù vogliamo camminare nella via della luce vogliamo camminare nella luce del mattino perché tu sei apparsa come luce in mezzo a noi luce divina che brilli davanti ai nostri occhi noi vogliamo camminare davanti a te rivestiti di luce cammina nella luce popolo mio questa mattina siamo ancora nella festa del natale il tuo natale è vita per noi tu sei nato per la nostra salvezza per la nostra gioia anche se il nostro il nostro giorno degli innocenti è velato da un velo di mestizia tu però signore vuoi fare risprendere la tua luce su di noi signore questi bambini sono nella tua gloria e cantano cantano gloria a te anche noi vogliamo cantare gloria a te che sei il signore della vita signore distruggi tutti il male che attorno a noi questo ti chiediamo distruggi i persecutori che attendano alla nostra vita i grandi persecutori invisibili del bello mio signore distruggi il seminatore della cesania che di notte e tempo semina il male in mezzo ai tuoi figli distruggi tutti o signore gli operatori del male non gli uomini che sono sedotti ma gli spiriti del male che girano attorno per seminare cesania per seminare il male signore Gesù fa che i tuoi figli godano salute e pace fa che i tuoi figli cantino fa che il buon grano cresca senza la cesania fa o signore che la nostra gioia sia piena e questa mattina ti vogliamo gridare la nostra gioia perché tu c'è le denti col tuo sangue prezioso vogliamo ricordare il testo dell'Apocalisse capitolo 6 tutti erano bianco vestiti questi di dove vengono questi sono quelli che vengono dalla grande tribolazione e cantano il cantico nuovo signore noi vogliamo essere associati al canto dei redenti vogliamo cantare il cantico nuovo tu signore hai fatto superare i tuoi figli la grande tribolazione e questa mattina noi vogliamo anticipare il canto della gloria gloria a te o signore gloria a te agnelli immolato gloria a te signore Gesù ora ne seguo l'eterno aleluia cantiamo a te che vincitore della morte cantiamo a te che sei il padrone della vita tu hai data la vita a tutti noi o agnelli immolato e noi gridiamo il nostro grazie a te perché sei il dio della vita e noi tutti siamo viventi con te grazie signore signore grazie a te grazie a te Grazie a tutti. Gloria a te che ci hai riscattato con il tuo sangue d'ogni peccato. Gloria a te che hai vinto il nemico. Gloria a te Signore che vinci sempre, che sguairi la spada contro i tuoi nemici e ci difendi dal grande dragone. Iurinuania non aiurinie, maiarinianalium. Guardate il tempo di adorazione. Fratelli e sorelle, ricomponiamo la nostra assemblea davanti a Gesù e chiediamo la liberazione degli spiriti del male. Signore Gesù fa che lo spirito di morte che eserpeggia riconosca in te lo spirito della vita. Signore caccia tutti gli spiriti di morte da questa sala perché tu sei la vita. Signore dà a tutti la speranza di una vita nuova. Ossi in aridite. Ossi in aridite. Svegliatevi perché lo spirito del Signore allege su di voi. O Gesù, tu sei la vita in mezzo a noi. Signore Gesù vieni qui in mezzo a noi Signore Gesù Signore Gesù metti la tua farina metti il tuo pane dentro questa pentola di morte e tutto sarà risanato Signore Gesù metti te stesso pane di vita nella pentola dove c'è la morte e tutto sarà risanato fa che tutte le erbe selvatiche siano così neutralizzate nel loro veleno e tutti quelli che mangiano possono mangiare la vita gloria a te o Signore Signore Alleluia 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 E allora sediamo tutti un momento Signore ti ringraziamo di tutti i doni che hai dato quest'anno a questa comunità e a tutti quelli che sono venuti in questa comunità la tua mano non si è accorciata e anche questa mattina vuoi dare qualche segno Sì o Signore perché tu vuoi fate silenzio sono io che parlo Signore mio Dio metti a tacere la voce malvagia del maligno Signore mio Dio noi ti ringraziamo e ti verediciamo ti ringraziamo perché tu sei venuto qui sei venuto a guarire e a liberare si è venuto a consolare tante e tante persone che da ogni parte hanno deletto i loro passi a questo luogo è stato un luogo di liberazione di guarigione di consolazione dove tu hai largito tante grazie dove tu hai parlato al tuo popolo e di questo noi ti ringraziamo vivamente questa mattina Signore mio Dio apri gli occhi nostri perché noi vediamo Te apri le nostre rette perché ascoltiamo Te e anche che il pane della tribolazione sia sempre duro anche che l'acqua dell'afflizione dobbiamo bella stento Signore noi siamo contenti di vedere il tuo volto di ascoltare la tua parola di ascoltare e di mettere in pratica i suoi insegnamenti Signore vogliamo camminare per la tua strada non vogliamo declinare né a destra né a sinistra e vogliamo abbandonare gli idoli noi diremo a tutti gli idoli di olio e d'argento fuori noi non vogliamo gli idoli di oro né d'argento vogliamo unicamente Te Maestro nostro Tu che sei l'autore della vita grazie Signore di quanto hai operato in mezzo a noi in questo anno grazie Signore anche per questa mattina perché Tu stai toccando una persona affetta da ipatita B e la stai guarendo grazie Signore Gesù grazie Signore Gesù perché è un forte dolore alle tempie che investe tutto l'occhio e una parte della faccia all'istante scomparisce grazie Signore Gesù grazie Signore Gesù perché due cervicali se ne vanno via per il tuo intervento e la persona che non sapeva muovere se non ha stento la propria testa adesso è libera grazie Signore Gesù grazie Signore Gesù perché hai visitato la schiena di una persona che si era adrezzata adesso senti un calore alla schiena e si sente bene grazie Signore Gesù grazie Signore Gesù perché Tu stai snodando così due spalle cioè le giunture delle braccia per cui questa persona può liberamente muovere le braccia che erano come anche l'osate come impedite dei propri movimenti grazie Signore Gesù grazie Signore Gesù perché Tu stai toccando alcune persone che hanno affetto e dolore agli arti inferiori grazie Signore Gesù grazie Signore Gesù perché Tu stai toccando il sangue che ritorna alla norma questa persona che ha avuto gli esami sballati rifaccia gli esami entro domani e vedrà che tutto ritorna alla norma grazie Signore Gesù grazie Signore Gesù perché Tu stai toccando il colon della persona grazie perché il dolore che sente non c'è più grazie Signore Gesù perché stai toccando le ovaie di una donna e stai liberando questa donna donacista all'ovaia per cui essa può liberamente concepire e partorire grazie Signore Gesù e adesso fratelli e sorelle chi è stato colpito da queste parole chi ha sentito la mano del Signore in testa alle orecchie sulle spalle chi ha sentito la mano del Signore nel suo corpo alza la mano per glorificare Lui tanti sono stati colpiti vediamo chi in maniera particolare aveva dei dolori forti per cui non sapeva se doveva venire o no e adesso non c'era più vediamo chi di voi voglia testimoniare perché è stato guarito dal Signore seduta stante tutti oh Signore ti preghiamo ascoltaci ed esaudiscici grazie Signore fratelli e sorelle il Signore chieda ancora una volta a questa assemblea il dolore dei propri peccati e chiede l'impegno della pacificazione nelle famiglie sono due impedimenti alle guarigioni ma il Signore vuole soprattutto la guarigione dei cuori chiedete la guarigione interiore non quella esteriore chiedete non il pane che perisce ma il pane che non perisce e gli avviterò l'uno nell'altro Signore noi ancora una volta ti chiediamo perdono dei nostri peccati siete venuti dice il Signore per chiedere grazie materiali io voglio darvi la vita dello Spirito siete venuti carichi di peccati io voglio liberarvi dei vostri peccati liberatevi dei vostri pesi chiedete il pane a me il pane che non perisce e avrete tutto il resto cercate la giustizia di Dio e il suo regno e il resto vi sarà dato eppure la mia mano non si è accorciata su di voi ecco tu tossisci da più di un mese adesso la tua pleura è dolorante tu hai un bruciore la pleura io tocco la tua pleura e ti guarisco grazie Signore Gesù sto toccando il tuo fegato è ingrossato le transeminasi sono alte e così la bilorubina e così tutti gli altri valori sono un po' sballati non temere io tocchi il tuo fegato evito tutto ciò che danneggia il tuo fegato io ti riporterò alla piena salute c'è un male iniziale che io tocco e distruggo la tua spalla ti fa male e da tanto tempo che ti fa male ma adesso sento una frescura alla spalla sono io che ti tocco e ti guarisco man mano che vengono annunciate queste grazie se le persone hanno ricevuto ricevuto realmente queste grazie sono pregate di identificarsi per glorificare il Signore e accrescere la fede dei presenti io sto toccando il bruciore degli occhi di una persona presente che sparisce in questo momento grazie Signore che è questa persona che ha il bruciore degli occhi e adesso non sente più questo bruciore degli occhi è pregato di identificarsi io sturo le orecchie di una persona che era intasate ha avuto un male una forma di otite e adesso ancora soffre per queste orecchie intasate io tocco le tue orecchie e tu ci odi correttamente se questa persona è presente alzi la mano che ha sofferto l'orecchio in questi giorni e ha avuto intasato l'orecchio destro questo orecchio adesso è stato toccato dal Signore e ci sente correttamente correttamente chi è questa persona vediamo vediamo avanti agite fazzoletto grazie grazie Signore Gesù e adesso fratelli e sorelle noi ringraziamo ancora il Signore e lo porteremo in sala prego di fare un po' di spazio perché il Signore ha legato alcune guarigioni a questo rito che noi facciamo a conclusione dell'anno ci sono altre guarigioni che sono qui scritte per dono di conoscenza ma vorremmo che foste voi prima che fossero annunziate a a dire Signore grazie perché mi stai guarendo poi c'è una persona che viene liberata dall'ensile del demonio questa persona la notte si sente legata e il diavolo la tormenta e fa tante cose scempie il Signore la libera da questo male per cui lo spirito del male si allontana e questa persona dormirà sonne tranquille non sarà più così legata e nessuno spirito cattivo abuserà da lei si trova l'ospedale di Santa Sofia questo di Villa Sofia c'è un risveglio di un ragazzo a Villa Sofia è in coma adesso fratelli e sorelle adesso noi passeremo con te tra la folla signore se c'è una persona che soffre di emorragia tu vuoi guarirla e da tanto tempo che soffre le regole si ripetono ogni 15 giorni e tutto è sballato in questo ciclo il Signore oh Signore tu vuoi toccare e guarire questa donna appena tu passerai essa si sentirà toccata da te Signore c'è una parola che tu suggerisci paraplegico non sappiamo Signore che cosa vuoi fare di questo paraplegico ma tu vuoi risanare o migliorare lo stato di questo paraplegico si trova in casa di una persona che è qui presente Signore ti ringraziamo intanto di quelle che tu vuoi operare si c'è annunciata anche qui una guarigione di cuore la valvola mitralica che dava fastidio adesso non darà più fastidio e per un altro uomo le coronarie sono toccate dal Signore poi c'è un asma bronchiale che il Signore tocca e guarisce c'è uno stato di ansietà che produce vulgore qui alla gola e dolore all'epicastro il Signore tocca e guarisce Signore ti ringraziamo di tutte le gravidanze di quest'anno sono state più di 20 gravidanze e ti ringraziamo anche che prima della fine dell'anno proprio prima prima che scada l'anno 30 31 tu metterai incinta una persona che aspetta da tanto tempo un figlio grazie Signore Gesù grazie adesso fratelli e sorelle guardate al Signore che passa il Signore guarirà abbiate fede in Lui abbiate fede in Lui cantiamo io ti dico che se tu credi vedrai la gloria di Dio tuo marito ritornerà tuo marito ritornerà grazie abbi fede in Lui Signore Gesù ti ringraziamo di quello che tu stai facendo oggi è il giudizio che tu stai facendo sopra gli iniqui che hanno devastato la tua vigna Signore Gesù io ti presento tutte queste care persone che ti appartengono perché sono state battezzate nel tuo nome perché hanno ricevuto l'Eucaristia sottrai il Signore all'influsso del maligno sottrai il Signore alle malattie riporta la pace Signore nel loro cuore libero Signore degli spiriti immondi degli spiriti di odio e di gelosia e di invidia libero Signore da tutti gli spiriti di morte libero Signore la tua casa liberi i tuoi figli Signore liberi i tuoi battezzati Signore liberi tutti quelli che appartengono al tuo mistico corpo Signore purifica il tuo corpo questa mattina Signore guarisci i pembri ammalati Signore ridona la pace ai cuori affranti Signore liberi i prigionieri Signore annuncia i poveri la dieta novella Signore abbraccia tutti nel tuo amore e fa che tutti ritornino a casa con la pace nel cuore con la speranza di giorni migliori grazie Signore per quel che tu hai operato questa mattina che tu continua ad operare adesso in mezzo a noi grazie Signore perché hai richiamato tanti morti alla vita sorgi tu che dormi e Cristo ti illuminerà grazie Signore per questi spunti di conversione per questi richiami che tu fai convertitevi e io mi converterò a voi camminate nelle mie luce camminate nell'amore e nel perdono camminate figli miei perché i tempi sono cattivi ma io sono in mese a voi nei giorni del sole e nei giorni della tempesta verranno giorni bui per voi ma io sono con voi non temete verranno giorni bui per voi prossimamente ma io sono con voi non temete chi speri in me non resterà confuso legatevi a me legatevi a me io sono il vostro Signore e Salvatore cambiate fiducia in me anche se l'epidemia farà del male voi sarete legati a me ed io vi salverò che oggi tutti andremo a casa perché sono ancora feste abbiamo voluto fare questa preghiera di conclusione ma tutti adesso siete pregate di tornare nelle vostre famiglie con la gioia nel cuore con la speranza di giorni migliori nel prossimo anno 1996 1996 dei Grazie.